ciao ragazzi e ciao ragazzi in questo tutorial voglio farvi vedere come si fa questo punto che è veramente veramente molto carino è un punto molto particolare poi vedrete anche perché e questo è davanti il dietro è carino anche perché come potete notare nonostante non ha lo stesso disegno che c'è sul davanti anche se si vedesse sia davanti che dietro sono molto molto carini vi lascio al tutorial allora questo punto innanzitutto non è reversibile questo vuol dire che il motivo si vedrà solo da una parte il multiplo di due quindi per mettere sui punti io ho messo su 18 punti ho messo su multiplo di due più due di vivagno e si lavorerà sempre su due ferri quindi lavoreremo il primo ferro in questa maniera allora innanzitutto andiamo a fare il nostro vivagno dopodiché normalmente per fare il diritto si mette il ferro c'è il filo davanti in questo caso andiamo a fare subito un gettato quindi siamo a rovescio lo passiamo direttamente sopra il ferro e lo teniamo qua prendiamo i prossimi due punti a diritto insieme quindi due punti insieme a diritto li lavoriamo insieme poi facciamo cadere due punti gettato quindi andremo a ripetere sempre questa queste due cose gettato due diritti insieme gettato quindi passo da sotto che sono sopra il ferro torno in posizione sotto e vado a lavorare i prossimi due insieme a diritto di nuovo gettato due insieme a diritto quindi due punti insieme a diritto gettato due insieme a diritto gettato due insieme a diritto quindi praticamente io ho cominciato subito con rovescio e da qui sono iniziato a fare il mio motivo che sono due cose che devo ripetere per tutto il ferro ho fatto subito il gettato e poi ho lavorato due punti insieme a diritto poi ancora gettato due punti insieme a diritto e l'ho ripetuto per tutto il ferro adesso ho fatto praticamente i due punti insieme quindi vado a fare ancora il gettato e finisco il ferro sempre devo finirlo in questa maniera con due punti insieme poi vado a lavorare il mio vivagno ok il secondo ferro e tutti i ferri pari andremo a qui no tutti i ferri pari nel senso che comunque anche se si ripete su due ferri se voi calcolate che ne so primo ferro secondo ferro terzo ferro quarto ferro si tutti i ferri pari sono sempre tutto a rovescio comunque i ferri su questo punto sono solo due quindi il primo ferro lavoreremo come abbiamo lavorato fino adesso secondo ferro sempre tutto a rovescio mi raccomando il primo ferro si inizia subito con vabbè vivagno che non lo calcoliamo neanche perché sappiamo che c'è e lo lavoriamo subito col gettato e poi due insieme gettato due insieme gettato due insieme secondo ferro invece e lo finiamo con due due insieme a diritto sempre va finito quindi iniziamo col gettato ma dobbiamo finire con due diritti due insieme a diritti quindi ogni tanto magari visto che ci sono così tanti gettati contate che abbiate sul ferro lo stesso numero di punti con quel quale avete cominciato perfetto quindi è molto molto semplice perché poi ripetendo soltanto due ferri è anche molto veloce questo quindi è il risultato calcolate che questo punto è un po particolare perché quando voi andate a farlo come potete vedere sotto è appunto cioè è obliquo non è diritto ma è proprio la particolarità di questo punto che fa questa cosa quindi voi per dire se fate una sciarpa anche se questo punto non è reversibile viene molto molto carina perché anche dietro se anche se non è identico al davanti forma questi quadrati che sono veramente molto carini quindi anche se non è uguale questo punto può essere utilizzato assolutamente per una sciarpa e anche il fatto che rimanga obliquo sotto e che va avanti a lavorarsi quindi obliquamente questo punto è molto carino proprio anche se è utilizzato appunto per fare una sciarpa con questo è tutto vi saluto al prossimo tutorial ciao ciao